ciao sono sarah tommasi e cazzo rispondo dopo pronto allora ciak allora sono sempre io sarah tommasi e ho appena finito di girare nella scena del mio ultimo film porno e stasera per festeggiare vado al bar dan a fare l'aperitivo perché c'è nome volumetrica vision che fa il dj fino a mezzanotte ballo con tommy volumetrica vision al bar dan ciao sempre sarah tommasi sempre film porno bar dan stavo per dimenticarmi domani sabato 26 c'è dj il sindaco che fa garage porno bar dan sarah tommasi